Buona e santa serata a tutti e bentrovati per questo appuntamento abituale che noi abbiamo per dirci semplicemente buonanotte. Augurarci cioè una notte serena, un riposo tranquillo per chi va a riposare, ma anche una notte serena e tranquilla per chi invece durante la notte fa turni di lavoro, come per esempio negli ospedali o turni di vigilanza o turni di pulizia o qualsiasi altro lavoro. Termina questo giorno dedicato alla trasfigurazione di Gesù. L'evento della trasfigurazione ci dice una cosa importante, che io e voi oggi dobbiamo continuare a porre tutta la nostra fede e tutta la nostra fiducia nel Signore. Lui è il Vittorioso, è l'Onnipotente, è il Santo, è il nostro Dio. Se ascoltate questo video prima dell'eventuno, io vi invito all'eventuno a collegarvi sul canale YouTube sempre Don Francesco Cristofaro per un momento di adorazione eucaristica, ecco per trasfigurarci insieme al Signore e per il Santo Rosario. Pregheremo in modo particolare per tutti noi e le nostre intenzioni. Se lo ascoltate dopo questo orario, ecco vi giunga semplicemente un abbraccio fraterno e tutta la benedizione del Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ci ritroviamo domani. Buonanotte e buon fine settimana a tutti. Naturalmente, come ci salutiamo, mandandoci anche un bacio.